Io soffro di depressione. Puoi fare un quadro contro questa bestia? Io con un quadro del genere potrei farti piangere qualche altra lacrima. Tu hai bisogno di una scossa. Tieniti forte perché andiamo. Sei tu quello depresso? Allora sali. Penso che qui tu possa provare il terrore in mani sicure, la gioia assoluta. Questo mix di emozioni fortissime secondo me sono un po' casano. Lo so, in fase depressiva nulla più sapore, nulla più senso e la percezione del mondo è malsana. E ti senti solo al punto di chiuderti in te stesso e pensare che nessuno possa capirti e aiutarti. Ma sai, è uno sbaglio. Non è vero che nessuno può capirti. Ma comunque mi piacerebbe vederti salire su quest'aereo e davanti al portellone aperto a 4000 metri dal suolo ripetere che non ti interessa nulla di te stesso e della vita. E ti sfido a non provare emozioni. Passare dall'apatia al terrore. E dal terrore all'euforia e gioia estrema mentre cadi a picco verso terra. E ricordati di urlare. Urla. Urla più che puoi. Scatena i tuoi sensi e lascia nell'aria i tuoi demoni. E' vero, non sarà la cura da una ripartenza col botto.